immerso in una cornice naturale incontaminata nei pressi dello splendido lago di garda il convento dell'annunciata di medole è una dimora storica del 1455 che rappresenta una soluzione raffinata ma al contempo semplice che vi permetterà di festeggiare il giorno più importante della vostra vita in grande stile le sale del convento il giardino segreto e il meraviglioso parco che in epoche passate hanno ospitato illustri personaggi come l'imperatore carlo quinto d'asburgo conservano ancora le antiche atmosfere fatte di giochi di luci colori e suoni che solo una dimora storica può avere i tre saloni testimoni delle cruente vicissitudini della famiglia gonzaga creano uno spazio unico di 180 metri quadrati a disposizione per circa 160 commensali che consente agli sposi di poter coinvolgere tutti gli invitati con estrema comodità se desiderate poi festeggiare l'intero matrimonio in loco il convento dell'annunciata in convenzione col comune di medole vi dà la possibilità di celebrare la cerimonia civile con rito autentico magari in giardino all'ombra degli alberi secolari o sotto i bellissimi portici della struttura il vostro matrimonio presso il convento dell'annunciata sarà senza dubbio un momento unico e indimenticabile ogni aspetto verrà curato e vi sarà fornito anche un ampio ventaglio di scelte per quanto riguarda il servizio catering proponendovi sempre opzioni di altissima qualità